Ecco qui un altro esemplare di bolletto Avoris, anzi bolletto Aedulis, questo qua, come potete notare, è il secondo della giornata, adesso tiriamo via molto secco, quindi ha poca umidità il bosco ed è piccolo il fungo, ben compatto. Adesso lo giriamo di modo da non rovinare il micelio e lo streiamo, questo è il secondo esemplare della giornata.